Se vuoi fare un percorso con le bici, le asso dicono no. Se vuoi sistemare un sentiero, le asso dicono no. Se vuoi fare un laghetto alle piote, le asso dicono no. Se vuoi sistemare il centro di lacun, le asso dicono no. Se vuoi pulire una strada, le asso dicono no. Se vuoi un camping a mezza via, le asso dicono no. Alla borsa dei tritori, le asso dicono no. Ai cercenari, le asso dicono no. Dove c'era una volta un lago, le asso dicono no. Per la tutela ambientale, le asso dicono no. Ecco qui un milione di euro, le asso dicono sì. Ecco un canone annuale, le asso dicono sì. Tre mila euro al metro quadro per un bosco non edificabile, le asso dicono sì. Stagionale gratuito, le asso dicono sì. È uno lingotti d'oro, pietre preziose. Le asso dicono sì. 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 A 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